Eccoci al nostro tradizionale incontro con Claudia Cargeri, Presidente della quinta Commissione Territorio e Infrastrutture e componente della terza Commissione Sanità. Claudia, buongiorno intanto, ben tornata con noi. Parecchi argomenti ma vorrei partire brevemente sul discorso sanità. Stiamo vivendo un attimo, tra virgolette, felice nel senso che i casi stanno calando, stanno diminuendo, però la domanda che la gente si fa è cosa ne sarà delle strutture che sono state realizzate nel periodo di maggior spicco. Sì, grazie Luigi perché ovviamente il tema sanità è un tema che è sui giornali tutti i giorni. Ovviamente abbiamo vissuto in Regione Lombardia che voglio ricordare essere la Regione con 11 milioni di abitanti, con i maggiori aeroporti. Regione Lombardia è tre volte l'Emilia-Romagna e ha una densità di popolazione ovviamente molto raggruppata, i centri abilitati sono ricchi, hanno numerosissime persone. Pertanto noi abbiamo avuto uno tsunami che ci ha coinvolto e ovviamente abbiamo, sappiamo noi bene, avuto i casi più numerosi di tutta Italia. Questo è un po' anche quello che va ricordato perché qui c'è un po' la volontà da parte dei mezzi, dei media di demolire un po' il sistema, il modello lombardo. Pertanto al di là degli schieramenti politici noi dobbiamo essere fermamente convinti che Regione Lombardia è una Regione da tutelare e da preservare, soprattutto perché ha numeri importanti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista numerico. Per quanto riguarda le strutture sanitarie che sono nate durante l'emergenza è nata un po' di polemica rispetto all'ospedale in fiera che ricordo è nato grazie a risorse di privati, quindi nessun finanziamento pubblico è stato speso. Era un ospedale che serviva in quel momento di emergenza perché non sapevamo più dove mettere i nostri malati, tanti sappiamo che sono andati anche fuori Regione, quindi era una necessità e tra l'altro questa cosa è stata confermata dal piano di rafforzamento del governo perché il piano dell'ospedale in fiera viene confermato dal piano sanitario del governo, pertanto è un ospedale che serve perché in caso di allerta, qualora dovesse ripartire l'emergenza, noi abbiamo già una struttura dedicata ad hoc che è già funzionante, pertanto io non vedo nessuno scandalo anche perché il governo stesso ci dice che è importante avere un ospedale dedicato e noi l'abbiamo. Io non appunto non mi interessano le polemiche, non voglio le polemiche, ma credo che già il fatto che il Presidente della Repubblica Mattarella sia venuto in visita privata, che poi una visita del Presidente della Repubblica non so quanto sia privata, proprio nel luogo in cui fu il teatro particolare della Regione Lombardia, significhi che la stima e il rispetto della sanità in Lombardia sia al massimo, poi abbiamo avuto anche i trapianti che sono stati fatti, il discorso delle trasfusioni, insomma e poi abbiamo gente che ci dà contro la Lombardia, di cui ci dà perché sono lombardo, che ci dà contro la Lombardia e poi vengono ancora oggi a farsi curare, vuol dire che se vengono stanno bene. A tutta Italia e dall'estero arrivano tantissime persone, il famoso turismo sanitario che vogliono venire a curarsi in Lombardia, io ricordo quando la Lombardia era riconosciuta da tutti come un'eccellenza sanitaria, pertanto adesso questi attacchi verso Regione sono davvero infondati e lo ricordano anche i numeri perché Regione Lombardia ha un credito verso le altre Regioni pari quasi a 2 miliardi, pertanto vuol dire che tanti abitanti di altre Regioni vengono e decidono e scegliono perché possono di curarsi in Lombardia. Passiamo, visto che è toccato il discorso della gente, delle persone che vengono in Lombardia, veniamo sul turismo, sul movimento, sul territorio, sulle infrastrutture, parliamo di navigazione, navigazione in Lombardia, l'ultima volta che ci eravamo sentiti c'erano i divieti tra Regioni, adesso queste sono state tolte, anzi proprio l'altro giorno è stata inaugurata una nuova motonave, la Peler, il nome di Unvento Gardesiano e quindi partiamo con l'Unvento in poppa. Si dico che per colpa di una norma che è stata scritta nel 1997, per colpa, c'è una norma che è stata scritta nel 1997 che doveva essere attuata il primo gennaio del 2000 che cita che il lago di Garda, così come tanti altri laghi bresciani, tranne il lago di Iseo che ha un'altra storia, doveva trasferire le competenze sulla navigazione dei laghi alla Regione Lombardia, in accordo ovviamente con le regioni confinanti. Questa norma, questa legge non è mai stata attuata perché ha un piccolo cavillo, una frase che sta bloccando tutto da 20 anni, ormai siamo nel 2020, doveva essere attuata nel 2000, siamo nel 2020, sono passati 20 anni per un problema di risanamento del servizio. Quindi c'è un cavillo in cui si dice che bisogna risanare i conti e tra il Ministero dei Trasporti e la navigazione, insomma c'è questo piccolo cavillo che probabilmente è un cavillo talmente insormontabile perché ovviamente oltre a trasferire le competenze è necessario poi trasferire le risorse, pertanto probabilmente ci sarà tutta una serie di valutazioni finanziarie che bisognerà fare. Ma io dico in 20 anni non abbiamo avuto il tempo, il governo non ha mai trovato, Roma non ha mai trovato il tempo di pensare a sbrogliare questa matassa, trovare le risorse necessarie affinché insomma anche la navigazione sui laghi che per il nostro lago di Garda è essenziale perché darebbe spazio e la possibilità di aumentare le corse, di diminuire il traffico su strada, di diminuire il traffico su gomma, di aumentare anche la flotta delle nostre motonavi perché non riusciamo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, siccome come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, stiamo rivedendo la legge regionale sui trasporti che è la legge 6 del 2012, una legge molto complessa che riguarda il trasporto pubblico locale, riguarda gli aeroporti, riguarda la navigazione dei laghi, riguarda i taxisti, gli NCC, insomma una legge molto corposa, molto complessa che vi faccio l'esempio, solo sul trasporto pubblico locale ha portato via 5 o 6 sedute di commissione per trovare e per ascoltare un po' gli operatori che si occupano di questo settore. Stiamo quindi rivedendo questa norma, una norma che ha, come vi ho detto, tantissime sfaccettature e quindi stiamo ascoltando un po' tutti gli operatori. Sulla navigazione dei laghi ci siamo detti, caspita, questo è un problema che non riusciamo noi a sbrugliare, abbiamo fatto una risoluzione lo scorso anno, votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, quindi maggioranza e minoranza, in cui si chiedeva alla Giunta di sentire il governo per trovare una soluzione a questo problema. La risoluzione è stata votata, il nostro ossessore è andato a Roma, il nostro ossessore ha dialogato col governo, ma non si trova una soluzione nell'immediato. Quindi abbiamo detto ascoltiamo un po' i parlamentari lombardi, soprattutto quelli eletti in provincia dove ci sono i laghi o quelli che sono nella Commissione Trasporti per chiedere a loro un intervento, un intervento che non può essere a spot, lo fa magari Forza Italia, lo fa la Lega, lo fa il PD, lo fa i 5 Stelle, un intervento che sia da parte della maggioranza e della minoranza affinché si cerchi di sbrogliare questo tema. È un tema importantissimo, lo ripeto, è un'opportunità che possiamo dare ai nostri laghi per aumentare le corse, per essere indipendenti ed è un tema che è stato oggetto di diversi documenti, di diversi dibattiti, di diversi approfondimenti anche da parte della comunità del Garda, dei nostri sindaci gardesani. Insomma c'è stato tanto movimento politico in questi anni, non so come mai questa cosa non si sbrogli a Roma, pertanto proviamo anche con quest'azione affinché se riusciamo a mettere insieme più teste magari troviamo una strada che possa essere in discesa e non in salita. Bene, altro argomento, passiamo all'infrastruttura e passiamo alle palestre, un argomento importante, stanno anche queste riaprendo con calma, con tutte le dovute cautele. Cosa ci dici? Guarda, hai fatto bene a farmi questa domanda perché proprio in questi giorni ho fatto un tour personale che continuerà anche nei prossimi all'interno delle strutture, degli impianti sportivi. Le società sportive si dividono in due, nelle associazioni sportive e dilettantistiche e nelle società sportive e dilettantistiche. Le società sportive e dilettantistiche sono società a tutti gli effetti, anche se non hanno una speculazione o la possibilità di guadagnare, hanno la possibilità di essere azienda nonostante non ci siano gli utili. Pertanto credo che sia un settore che genera un pilo importante in regione Lombardia, ha numeri importanti anche dal punto di vista degli altri. Perché sono stata in una palestra che ho perso un secondo, sei tornato, perfetto? Sono stata in una palestra proprio ieri in provincia di Bergamo, per non citare le nostre bresciane, ma le sto postando sui miei social. Questa palestra ha circa 100 dipendenti. Pertanto parliamo di numeri importanti e stiamo facendo una serie di valutazioni per istituire un tavolo regionale che si occupi di approcciare questo mondo non come una semplice associazione sportiva, ma all'interno anche dello sviluppo economico. Pertanto noi crediamo insieme agli operatori che sia un mondo da tutelare, un mondo che deve essere considerato come le aziende perché fa girare una serie importante dei numeri. Bene. E scusa perché mi hai chiesto della sicurezza e lavora in sicurezza, infatti anche il mio tour era per fare un sopralluogo per capire se avevano aperto in sicurezza, se avevano riscontrato dei problemi e devo dire che nelle palestre in cui sono stata non solo c'è una grandissima sicurezza, pulizia e attenzione da parte degli operatori, ma è anche un mondo che è sempre stato attento, che si è evoluto in questi anni, non troviamo più il sollevamento pesi, è un mondo che sta attento alla cura della persona, non solo giovane ma anche la persona di una certa età e oltre a fare benessere crea anche economia e benessere anche per il proprio personale, perché non hanno lasciato a casa nessuno questi nei mesi del lockdown. Bene, complimenti per la tua attività, insomma ti vediamo molto impegnata sul territorio, ti seguo sui social, quindi sono al corrente dei tuoi movimenti. Ti ringrazio Claudia per la tua disponibilità, ci diamo appuntamento fra una quindicina di giorni sapendo già che avrai parecchie cose da dirci, perché conoscendoti non stai ferma, quindi ti ringrazio. Grazie a voi e buon weekend a tutti. Al prossimo incontro a te tanto. E confidiamo nella buona stagione e nel tempo. Speriamo. Per il nostro lato di Garda. Grazie Claudia. Grazie. Grazie a tutti.